Io credo che quando si scrive un libro, almeno nel mio caso, io scrivo un libro per divertire, per essere di intrattenimento e poi in sottofondo magari per lanciare degli spunti di riflessione, per dare delle idee, quindi questo è sicuramente il mio obiettivo secondario. Uno scrittore ha, secondo me, un obbligo di assoluta onestà nei confronti del suo lettore, dei suoi lettori, quindi se scrivi gialli, che siano gialli onesti, dove tu dai tutti gli elementi per scoprire il colpevole, se scrivi un romanzo rosa, che sia un romanzo che rispetta un po' le regole del genere, di non lasciare dei fili che non si riannodano alla fine, quindi un dovere nel senso proprio come mestierante. Se poi riesci a fare un lavoro anche più in profondità, insomma, andare più in profondità, benissimo, senza aspettarsi grandi cose, perché sappiamo benissimo che il numero di lettori è limitato, l'impatto che puoi avere è limitato, però uno cerca di fare onestamente il suo mestiere e chissà che qualcosa poi non venga fuori. Allora, uno, ci sono dei personaggi che sono, insomma, gioco forza l'autore, però più bello, più ricco, più giovane, allora devo dire che forse il personaggio in cui io mi sono immedesimata di più è la protagonista del mio primissimo giallo, che è La morte fa notizia, è uscito nel 2005 con Pendragon, perché io sono una giornalista e questa è una PR, che è un po' l'altro lato, insomma, del mestiere. E questa è una PR molto dinamica, che va in motorino, che è affascinante, che ha un sacco di uomini che le vanno dietro, no? E quindi è un po' la proiezione di quello che in quel momento, in qualche modo, mi piaceva, insomma, essere. Un altro personaggio che sicuramente, insomma, ha molti elementi che invidio è Lara Rebecca Ramones, che è la protagonista di Uomo Giusto Cercasi, proprio per questo respiro internazionale, no? Il fatto di poter girare l'Europa, di conoscere tante lingue, di avere... Lei ha un fidanzato italiano, la mamma finlandese, il papà spagnolo, il suo migliore amico è finlandese, cioè, no? Ha proprio questa multiculturalità che lei invidia e che forse sarà proprio, insomma, delle generazioni future. Trovare il tempo per scrivere. Io ho la fortuna, cioè, non ho mai avuto il problema della pagina bianca, scriverei su qualsiasi cosa, veramente, no? Quando dicono gli scrittori che prendono appunti sui biglietti del tram è tutto vero. Io ho la fortuna di avere una grande fantasia, mi serve il tempo e quindi ho la fortuna di andare in ufficio a piedi, allora, mentre cammino, elaboro le mie trame, penso, poi butto giù qualche appunto, è proprio solo una questione di tempo per me. E cambia completamente, infatti c'è la mia produttrice, che è una giovane produttrice di Pescara, che è preoccupatissima, perché teme, insomma, la mia reazione, proprio nella diversità di questa trasposizione. Però io mi rendo perfettamente conto che una cosa è un romanzo di 300 pagine e una cosa è una fiction di 50 minuti. Devi fare delle scelte, devi sacrificare dei personaggi, è una scrittura completamente diversa e soprattutto devi raccontare, imparare a raccontare con le immagini. E quindi, sì, è proprio un'altra cosa, no? E quindi il fatto di essere chiamata a collaborare a questa trasposizione è un bel sollievo, una bella soddisfazione, perché hai un po' la garanzia che il tuo lavoro non venga tradito, però sarà una cosa diversa. E quindi è l'idea di, in qualche modo, avvicinare al tuo lavoro, alla tua scrittura, al tuo personaggio, e poi chi vorrà approfondire, insomma, si leggerà i romanzi. Questo speriamo.